Questo è un tema molto interessante per me perché si tratta di andare a vedere dentro noi stessi però diciamo così con un lanternino speciale perché andiamo un po' a vedere quali sono gli schemi mentali che noi abbiamo nella testa. Eccoli che si tratta sono proprio delle trappole perché sono delle trappole per me è una trappola tutto quello che riduce la nostra libertà e quindi la mente è come dire è quell'ala che ci fa volare ma può anche essere diciamo una invece una prigione dentro cui noi stiamo. Tante volte io mi sono trovata con delle persone che durante dei colloqui degli incontri mi dicono perché purtroppo io sono una persona molto mentale in genere quando una persona dice così non intende per niente che usa la mente ma che è intrappolata in delle trappole che adesso vediamo insieme. Quindi una persona mentale è una persona che ha una libertà nel pensiero e che utilizza le facoltà del pensiero che adesso vediamo a suo piacimento in libertà. Quando uno dice una persona mentale significa che si attorciglia in qualche modo nella sua mente questo non è un uso proprio del pensiero è un'arma impropria e in effetti è un'arma è un fuoco amico. Ecco è un'arma è un'arma rivolta contro noi stessi. Voi sapete che c'è un detto che viene da Salomone quindi un detto che è nella Bibbia che dice così come un uomo pensa così egli è. Quindi il pensiero è una cosa nobile che muove all'azione che muove verso anche un'autorealizzazione e vediamo quindi cosa possiamo fare. Il primo passo è quello di avere una consapevolezza e anche poi io vi racconto le trappole di cui si parla in psicologia e che io ho riconosciuto dentro di me. Magari voi siete già esseri liberati da queste trappole e non avete bisogno di questa conferenza di questa chiacchierata però se mai ne aveste bisogno. Il primo passo è quello di rendersi consapevoli ecco avere più chiaro che cos'è che ci fa un pochino inciampare. Prima di entrare nell'argomento però vi volevo ricordare un pochino qual è il contesto in cui questa conferenza viene fuori. Si parla della mente ma se ne parla in un contesto che è la psicosintesi. Nella psicosintesi quindi possiamo dire che ci sono una visione generale della psicosintesi ma la faccio molto breve. Vede l'essere umano come un'entità che ha un corpo fisico ovviamente rappresenta il nostro aspetto materiale ma che anche include tutto quello che è la nostra sfera emotiva, i nostri pensieri, la nostra immaginazione, il nostro corpo. Lo abitiamo completamente con tutto quello che noi siamo. Quali sono le altre sfere oltre a quella fisica? Diciamo un pochino detta così velocemente c'è la sfera delle emozioni, dei sentimenti, dei desideri, degli impulsi. Chi ha in mente una delle mappe della psicosintesi rivede la stella delle funzioni mentre io parlo. Poi c'è la sfera mentale e anche la sfera della coscienza dove c'è la nostra capacità di pensare, di riflettere, di analizzare le esperienze, la coscienza di sé, diciamo la nostra identità. In psicosintesi c'è anche un altro aspetto che non si trova in tutte le visioni psicologiche. Io sono una psicologa eppure so che questa visione stenta un pochino a entrare nel campo della psicologia, però io la ritengo invece una parte fondamentale perché è quella che in psicosintesi la potremmo chiamare la sfera di una coscienza superiore, cioè una sfera un po' della nostra spiritualità laica. Poi se qualcuno la spiritualità la vive anche in una maniera, in un percorso religioso, benissimo, ma è una spiritualità che si può vivere con una connessione più profonda della vita in tanti modi. E questo ci entra anche con il discorso che voglio fare io, perché c'è una sfera della nostra mente che quando è libera ci consente proprio attraverso l'intuizione, attraverso l'immaginazione, di andare in un tipo di pensiero molto rarefatto che assomiglia proprio all'aspetto intuitivo collegato a questo sé transpersonale. Sono quei pensieri, quelle modalità, quelle pesantezze della mente invece che ci fanno stare invece molto rasoterra, qualche volta anche sottoterra e quindi ci impedisce questa mente un po' occlusa anche proprio di andare in quelle sfere che sono quelle del transpersonale. Quindi, cosa fa il pensiero? Cosa dovrebbe fare? Qui nei miei appunti ci ho scritto magari col punto esclamativo, perché questo sarebbe il suo scopo. Allora, il pensiero ci aiuta a elaborare le informazioni, no? Se voi ci pensate, punto, quando leggiamo un libro, seguiamo una conferenza oppure una lezione, qualcosa, un film, c'è questa sfera del pensiero che raccoglie le informazioni e le interpreta. Noi capiamo, sentiamo anche delle emozioni sicuramente, anche quando uno impara qualcosa o quando vede un film, però principalmente segue una trama, cerca di capire dove si va a parare, collega la mente a questo scopo. Forma i concetti, li vediamo per esempio nei bambini, no? Quando sono piccoli, piano piano capiscono che quello è un animale domestico, quell'altro invece è un animale feroce, che adesso c'è una persona, anzi più di una, che si occupa dei bambini, quindi si vedono anche formare, no? Mi immagino, c'è questa mente che lavora, febbrile e che crea delle connessioni, che è destinata, è un lavoro che è destinata a fare per tutta la vita. Analizza, sintetizza, mette insieme le cose, produce delle idee. La mente creativa è anche una mente che le produce oppure capisce le idee innovative di altri, è lo stesso meccanismo, quando noi vediamo qualcosa di creativo e lo riconosciamo, siamo contenti come se l'avessimo fatto noi, perché è qualche cosa che ci apre proprio, no? La mente. Quando scriviamo una storia, usiamo la nostra mente. Quando ragioniamo, riflettiamo su un tema, ci facciamo un'opinione di qualcosa, in genere, soprattutto gli italiani, si fanno un'opinione soprattutto con le emozioni, una cosa che lo fa arrabbiare o non lo fa arrabbiare, ma in realtà è la nostra mente che produce le nostre opinioni, no? Mette insieme una riflessione, esamina le esperienze passate, presenti, pianifica, fa una decisione, ma qualunque tipo, no? Volevo andare, che ne so, in Irlanda, comincio a pensarci, guardo un po' le cose anche del viaggio, ma anche posso leggere qualche cosa. È sempre la nostra mente che ci accompagna. immagina, sa immaginare. Qual è il problema? Allora, dove si intoppa questa mente e in che modo? Si intoppa, diciamo così, soprattutto perché noi, così come nel nostro corpo, non esiste una vera differenza tra un apparato respiratorio, un apparato cardiocircolatorio e l'apparato locomotore. Cioè, sì, se andiamo a studiare l'anatomia ci interessa, forse ai medici ci interessa parecchio capire la differenza e anche specializzarsi, ma noi come esseri umani, mentre viviamo, viviamo in un tutt'uno. Così è la nostra psiche. Quindi, quelle cose che vi ho citato adesso sono delle facoltà mentali specifiche, che però noi, mentre facciamo una di queste cose, per esempio pianifichiamo un viaggio, utilizziamo la mente, ma ci va dietro un sacco di altra roba. Ci ricordiamo i viaggi che abbiamo fatto, abbiamo le paure che magari succedono una cosa, oppure prevediamo delle cose che potrebbero accadere e che speriamo che non vadano bene, oppure ci spostiamo perché dice, ah però questa cosa mi fa venire in mente che adesso io mi voglio occupare invece di un'altra cosa, perdo tempo a occuparmi del mio viaggio. Insomma, la nostra vita quotidiana è intessuta di emozioni, desideri, impulsi, oltre che di pensieri, in una maniera che a volte ci fa un po' perdere il filo. Quindi questa nostra grande ricchezza diventa anche qualche cosa che dentro di noi si può ingarbugliare. Gli orientali, per esempio, usano una parola che è Kama Manas. Manas è il pensiero, però quando c'è Kama, cioè tutte le emozioni, i desideri, gli attaccamenti, e si mettono insieme, si appiccicano al pensiero, diventa come un'amalgama molto difficile da affrontare e qualche volta anche indigeribile. Perché le nostre trappole, su cui ora andiamo più in dettaglio, sono proprio degli schemi mentali. Un po' di storti che influiscono negativamente su di noi. Vi faccio subito degli esempi, perché è proprio di questi che parleremo. Allora, per esempio, ecco una prima trappola. Il pensiero catastrofico. Ora io vi interrogo su queste cose a tutti. Pongo qua ai miei spettatori in diretta, ma poi interrogerò anche gli altri, vi interrogerò anche a voi. Allora, vediamo un po' se conoscete qualcuno o qualcuno dentro di voi. Sapete che in psicosintesi si dice che noi dentro di noi abbiamo tanti diversi personaggi interiori. Io uno un po' catastrofico ce l'ho, un personaggio interiore. Però il pensiero catastrofico, che è un pensiero distorto, per esempio, è quando noi anticipiamo il peggio di ogni situazione. C'è qualcuno ride in sala e vedo che qualcuno… perché poi ce lo riconosciamo in noi il difetto, ma come lo riconosciamo velocemente negli altri, no? Ha subito in mente qualcuno. C'è il pensiero catastrofico. Quindi, quando noi anticipiamo il peggio, anche quando le probabilità che questo peggio accada sono veramente molto basse. Facciamo qualche esempio. Un esame universitario. Se non supero questo esame, pensa il nostro pensiero incastrato in questa trappola, la mia vita sarà rovinata. Non troverò mai un lavoro, sarà un fallimento completo, perché poi va molto avanti. Il catastrofico è quello che… Oppure c'è un po' di mal di testa, ho anche un mal di testa grave, deve essere un tumore. Questo deve essere un tumore alla testa di sicuro, no? Non potrò vedere crescere i miei figli, i nipoti, poi chi sei… niente. Finisce una relazione, rimarrò solo per tutta la vita, no? E' un pensiero… qualcuno sghignazza. Ma ci sono, allora esiste questa trappoletta, questa trappoletta malefica anche in voi. Quindi, che cosa succede in questa trappola? Perché fa ridere quando la guardiamo da lontano, negli altri o dentro di noi. Però è un amplificatore, è un amplificatore. Per cui, la cosa… perché funzionano queste trappole? Perché vanno a prendere un quantum piccolo di realtà. Perché potrebbe succedere, no? Che si interrompe una relazione, io rimango solo tutta la vita. E' una tra le tante possibilità. Ma il pensiero catastrofico si incastra proprio su questa. E il problema è che in queste trappole si rimane attaccati. Questo fa meno ridere. Perché si vedono delle persone che, anche dentro di noi, anche noi, e comunque magari conosciamo qualcuno che si intrappola proprio come una tagliola. non riesce a vivere la sua vita in modo libro. Ma il secondo… perché siamo appena… Ve ne ho selezionate dieci. Qui siamo alla seconda. Una generalizzazione eccessiva. Cioè, trarre delle conclusioni generali basate su un singolo evento o su un'esperienza negativa. Un po' alla Charlie Brown, io dico. Cioè, ad esempio, uno fa un colloquio di lavoro che va male. Quel colloquio di lavoro va male. E che cosa ne ricava una mente che fa una generalizzazione eccessiva? Si rende conto che quel colloquio è andato male e dice sono completamente inadeguato. Se non sono riuscita a ottenere questo lavoro, allora generalizzo, non otterrò mai niente. Oppure, sono un artista, per esempio. Siamo circondati da opere d'arte. Mi immagino se il primo che ha fatto un vasetto di questo tipo ha visto un amico che gli ha detto sì, carino, ma qua c'è un difetto. Ecco, da questa cosa piccola che ha detto una persona, una angoscia generale. Quindi, mentre il pensiero di prima, quello catastrofico, lo ingegnero io da solo dentro di me, qui mi attacco a qualcosa che è accaduto e che magari anche altri hanno detto ho fatto per smorzare completamente la mia autostima. Oppure c'è una polarizzazione, cioè vedere le situazioni in termini di tutto o niente. Questa è una cosa interessante che accade molto spesso alle persone. Cioè, non si vedono sfumature, è un po' o con me o contro di me. Noi la vediamo molto spesso in Italia nella polarizzazione politica. Non che nelle altre nazioni si vada molto meglio, però qui c'è una nota particolare. Come se ci fosse una mancanza in molti di noi o quando scatta qualche cosa dentro, di vedere le sommature. Quindi di accettare un'opinione dell'altro senza che per forza debba venire completamente verso di noi o noi completamente verso l'altro. Quindi una polarizzazione. O sì, o è tutto sì, o è tutto no. Certo che quando si ha questa trappola mentale anche le relazioni con gli altri sono molto difficili perché prendiamo anche in una relazione di coppia. Io le vedo queste persone, ripeto, non sono esente da queste problematiche, però anche le vedo, mi rispecchio in tante persone che incontro e ad esempio ci sono degli uomini o delle donne che con il proprio partner hanno un atteggiamento o tutto niente, sono polarizzati. Cioè basta che accada... Se non mi dimostri attenzione e amore continuamente e con la stessa intensità significa che non mi ami più. Cioè non si dà spazio, per esempio, in una relazione o anche con gli amici. Io incontro, è una polarizzazione molto tipica dell'adolescenza, incontro anche tanti ragazzi che sono in crisi perché si sentono rifiutati da un amico o da un'amica e vedremmo che ci sono altre trappole che lavorano insieme, ma perché o è tutto o è niente, semplicemente magari non ci hanno chiamato a uscire un pomeriggio e questo ha rovinato completamente un'amicizia o un rapporto importante. Un altro parente di questo è il numero quattro, cioè il filtraggio mentale che è proprio concentrarsi sugli aspetti negativi di una situazione ignorando quelli positivi. Cioè anche se ci sono, ecco una cosa tipica che mi sono segnata, durante una vacanza, uno è in vacanza, in un bel posto, con delle belle persone che magari ha scelto, però c'è cattivo tempo, piuttosto che c'è un imprevisto sui mezzi di trasporto. Allora, questo tipo di problematica, che cosa succede? Che è un po' simile anche a quella del tutto e niente, è proprio faccio un filtraggio mentale e prendo una parte negativa, l'amplifico a tal punto che tutto il resto sparisce. Cioè io sono completamente stressato dentro un aspetto che sicuramente non va bene, ma che è in un contesto molto maggiore di cose positive, no? Sono comunque in vacanza, sono in un posto che ho scelto, posso trovare molte alternative. oppure appunto c'è un... ho scritto una cosa, devo fare un progetto, c'è una piccola cosa negativa che non mi è venuta effettivamente molto bene. Ecco, il filtraggio mentale vede quella cosa e squalifica tutto il resto. Attenzione, perché queste trappole mentali, quando le abbiamo verso di noi, spesso le abbiamo anche verso gli altri e soprattutto verso gli altri che ci sono più vicini, i nostri cari familiari. Se un genitore, per esempio, ha questo problema con se stesso, tenderà poi ad averlo anche con i propri figli. Un'altra cosa di questo aspetto, per esempio, io l'ho visto spessissimo, non so, durante dei corsi, anche con dei colleghi, no? Che seguono magari un gruppo, non tanto qui ad Arezzo Psicosintesi, sinceramente, però ho visto, no? Persone magari che seguono un gruppo, mi è capitato tante volte di fare la co-conduzione o di seguire comunque delle persone che guidano un gruppo di psicosintesi, mettiamo, ci sono 25 persone nel gruppo. Una persona fa un commento un po' negativo, non gli è piaciuto qualcosa oppure non gli è piaciuto proprio l'esperienza. Ecco, con l'unico commento su 25, 24 sono andati bene, il 25esimo non andato bene, rovina completamente chi è affetto da questo filtraggio selettivo, perché filtra tutto il resto rimane come un piccolo sassolino. E questa cosa che succede a tutti, per qualcuno, ha delle caratteristiche invece importanti, cioè non si riesce più a recuperare con facilità tutto il resto della situazione, rimane soltanto questo, come se fosse un punto buio, cieco nella retina su cui si imposta tutta la nostra visione. Altra trappola incredibile è l'etichettatura. Questa la facciamo sia con noi stessi che con gli altri. Praticamente è la base del pregiudizio, è una trappola mentale, è una restrizione, questo si dice anche, avere il paraocchi, quindi, che è quello dei cavalli, che veniva messo ai cavalli, proprio viene messo, penso, tuttora, proprio perché possano andare dritti e non vedono assolutamente niente di quello che c'è intorno o comunque sono indotti a guardare solo davanti. Questo paraocchi è un altro modo di dire l'etichettatura, assegnare etichette negative, che è quello che ci interessa di più, a se stessi o agli altri, senza considerare il contesto o la possibilità di cambiamento, perché la trappola nasce dal fatto che io vedo una cosa, però vedo solo quella. Il cavallo, quando ha il paraocchi, non è che si inventa la strada, semplicemente vede solo una porzione della realtà e quindi questa etichettatura, per esempio, quando è fatta verso noi stessi, è una delle ragioni per cui noi abbiamo un'autostima bassa, perché ci siamo messi l'etichetta, no? È andata male qualcosa nella nostra vita? Fallita, etichetta fallita che rimane appiccicata, anzi qua, no? Rimane appiccicata qua perché noi ce la ricordiamo e gli altri la leggono inevitabilmente. Però questo etichettamento che è un problema di restrizione mentale può anche essere utilizzato verso gli altri. Ad esempio, etichettare un amico come egoista perché una volta non ha dato attenzione e l'ha fatto veramente di non dare attenzione, però una volta non ha dato attenzione a una cosa che noi ritenevamo importante, non è venuto che è stata di laurea, dico una cosa a caso, e invece di guardare il contesto, cioè le altre volte in cui è venuto o anche indagare un motivo più specifico si salta subito a una conclusione. Gli stereotipi sociali nascono da questa restrizione mentale, l'etichettatura che si dà anche dal punto di vista per esempio razzista agli altri è un fenomeno sociale su cui fare molta attenzione perché qualcuno ce l'ha proprio in automatico, cioè come quelle macchinette che prezzano, che hanno l'apprezzatura, ognuno ha una sua etichetta, però è anche vero che spesso queste cose di cui vi parlo sono inconsce, noi non ci accorgiamo di farle, cosa facciamo? Ci sentiamo semplicemente a terra, ci sentiamo isolati, ci sentiamo che tutto ci va male, ci sentiamo che gli altri si comportano in modo che si comportano male, ci sentiamo invasi dallo straniero, cioè noi viviamo in una soggettività problematica, molte volte inconscia, poi andiamo a vedere queste trappole in cui noi ci siamo messi, abbiamo imparato delle trappole tra cui anche l'etichettatura, gli stereotipi negativi sono un'altra trappola, noi viviamo in un, non dico noi, spero non noi qua, però a volte può succedere che le persone vivono in un mondo decisamente di nemici perché ce l'hanno nella testa e quindi esistono di chiusura mentale di nemici o anche il conflitto familiare, ecco anche qui ogni tanto io do qualche spallata ai genitori che pure li capisco, se non li capisco, li capisco, li capisco, però è vero che a volte i figli vengono proprio catalogati in famiglia, cioè tu sei sempre il solito disobbediente, tu sei sempre la solita che ne so, agitata e questa cosa che pure può descrivere un tratto del carattere diventa un'etichetta, un'etichetta che si fatica moltissimo poi a togliere, del resto se pensiamo a noi anche come figli abbiamo avuto delle etichette, alcune favorevoli che ci hanno un po' aiutato, altre meno che ci hanno anche un po' è normale che sia così, ma diciamo che lo scopo anche del nostro lavoro di consapevolezza è quello di pensare al nostro breve termine che è un termine più lungo in modo che anche quello che automaticamente ci passiamo un po' di padre in figlio di madre in figlia e anche incrociati possa in qualche modo o di padre in padre 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 madre padre adesso con tutte le famiglie come volete voi però il concetto è quello possa essere in qualche modo più consapevole quindi il primo passo come si è detto all'inizio è di avere consapevolezza di questo quindi starci più attenti poi riuscire a vivere in una maniera più armonica quello è il secondo passo poi ce ne sono anche altri un'altra cosa interessante a me è capitato di avere delle persone che leggono il pensiero purtroppo non ci chiapano sempre però sono convinti di sapere quello che pensa l'altro a me è capitato per esempio sicuramente anche io avrò fatto la lettura automatica del pensiero di un altro però mi è capitato proprio di vedere la reazione di alcune persone intorno a me indagare attivamente finalmente mi sono fatta dire perché questa scontrosità ma come perché perché tu hai detto no non l'ho detto me ne pensavi si vedeva bene cioè è la lettura del pensiero dell'altro senza fare una verifica perché uno può anche darsi che sia bravo a interpretare delle delle posture delle delle mimiche facciali è vero è possibile abbiamo proprio questa questa idea che è sostenuta anche dalle neuroscienze sapete che ci sono i neuroni specchio per cui proprio noi anche ora io parlo e lo vedo che state ascoltando vedo delle delle microespressioni magari penserete anche ai fatti vostri ma sicuramente siamo anche qui insieme noi siamo fatti in modo tale che ci capiamo un po' l'uno con l'altro non al punto da riconoscere veramente i pensieri dell'altro ecco questa è un'altra etichettatura interessante ma io lo vedo noi siamo proprio inseriti in un mondo che non ci aiuta a essere un pochino obiettivi perché adesso vi faccio su questa lettura del pensiero mi sono venuta in mente due cose che riguardano proprio la nostra programmazione anche sociale su queste difficoltà su queste trappole siamo intrappolate anche socialmente per esempio lo mangiamo un po' col pane anche questa lettura del pensiero negli eventi sportivi quante volte si sente dire io spesso ho la televisione sintonizzata su le cose sportive in casa che è una delle cose che mi interessa a tutto il mondo lo voglio dire che mi interessa di meno nella vita però c'è sempre questi qui che mi parlano di tutti gli sport possibili immaginabili e quante volte ho sentito l'aria per dire ecco quell'atleta sembra nervoso probabilmente sta pensando alla pressione che ha di vincere ma che ne sanno che ne sanno è vero non sarà ovviamente rilassatissimo perché un po' di tensione ci vuole ci vuole l'eustress lo stress non è soltanto una cosa negativa è anche qualcosa che ci mette in movimento ma da lì ricavano giustamente il loro mestiere ma cavolo ricavano dieci minuti intanto che inizia il match le cose così a dire sì perché infatti probabilmente questo è il gossip il gossip sportivo vero e quindi ti inducono io poi quando guardo queste creature che mi sembra tutti i figli miei perché sono tutti giovani lo vedo che è dispiaciuto guarda lo vedo che c'è sta male anche a me mi sembra di vedere negli occhi questa angoscia che però può darsi che non ci siano oppure ecco un'altra cosa che mi viene dalla televisione l'avete mai fatto caso i piccoli confessionali di tutte le cose che guardiamo un po' reality ecco io ho in mente non mi sono insegnato qua ecco sono sicuro che gli altri concorrenti mi odino perché io ho vinto il precious test ma che ne sai perché ti devono odiare eppure che cosa fa questa persona che si esprime così induce anche in chi la guarda l'idea che gli altri in effetti lì è chiaro che è tutto a tavolino fatto a tavolino ma quello che mi interessa è che sono queste trappole su cui poi non bisogna stupirci che noi viviamo quotidianamente perché siamo messi come in questo brodo cosmico in cui tutti pensano di sapere anzi e loro ne fanno un mestiere di sapere il che sta pensando quiz quell'altro c'era Ninofrastica un tempo che faceva il che sta pensando quiz ve lo ricordate indietro tutta c'era Ninofrastica vestito da saggio non si sa che entrava in questo macchinone questa macchina che era guidata e il telespettatore doveva indovinare che stava pensando era un periodo che c'era la carrà con i fagioli che tutti dovevano indovinare quanti fagioli ci sono cioè era una parodia ovviamente della teoria fatta benissimo chi se l'è persa se è persa qualcosa che meno male che ci sono le techerai e questo era il che sta pensando quiz che è un po' un emblema di questa o anche nelle conversazioni sociali sono sicuro che tutti stiano pensando che non ho niente di interessante da dire ma che ne sai prova prova a capire quante persone che hanno una fobia sociale si muovono si muovono all'interno soltanto di queste trappole dentro e non incontrano mai veramente la realtà la prima cosa da fare è proprio assicurarsi che quello che io sto pensando che mi fa star male è veramente fra me e l'altra persona nella relazione c'è veramente quell'ingrediente certo gli altri possono mentire dire di no invece c'era ma insomma è più facile che noi incontriamo un po' di verità se la andiamo a cercare ne mancano tre di queste simpatiche trappolette un'altra cosa che ci fa sentire magari più importanti è quella di personalizzare si dice in psicologia cioè di interpretare gli eventi come se fossero direttamente connessi a noi anche se non lo sono no ma anche pur di sentirci in qualche modo in delle situazioni importanti che sono anche tutte un po' contraddittori queste trappole siamo anche disposti a non perdere la faccia dentro di noi seguendo il nostro pensiero anche se ci sfavorisce ad esempio in un contesto sociale non siamo invitati a un contesto mettiamo che non siamo invitati allora questo non invito si può interpretare in tanti modi se ne sono dimenticati non hanno voluto perché non avevano soldi per invitare tutti no probabilmente quello potrebbe diventare per una persona soprattutto se abituata a percepirsi in modo negativo il segno di un'esclusione sociale importante che denota proprio la rovina di una serie accaduta di relazioni perché evidentemente quella situazione è l'emblema di un isolamento che noi abbiamo totale a volte succede quando abbiamo un po' di stoffa per fare questa giacchetta altre volte invece anche in delle situazioni in cui sarebbe stato quasi strano che ci avessero invitato però un'aspettativa nostra ci fa cadere in questa trappola ci sono le ultime tre che secondo me sono le più gravi e di cui abbiamo parlato anche in altri momenti abbiamo parlato in altre conferenze anche uno è il rimuginio rimuginare rimuginare sul passato preoccuparsi di tutto quello che ci è accaduto abbiamo fatto un errore sul lavoro non finisce mai questo errore perché non soltanto noi pensiamo che abbia conseguenze conseguenze oggi e nel futuro naturalmente ma continuiamo a tornare lì quando è successo questa cosa avrei dovuto avrei saputo avrei voluto come mai è andata così ripensiamoci ma infatti in quel momento io dovevo ma come mai e poi perché ho fatto questo e potevo ecco questo è il rimuginare è qualche cosa cioè che ha a che vedere con l'impossibilità di cambiare qualche cosa e quindi un lavorio mentale che è solo logorante adesso mi fermo un attimo e ritorno poi su questo rimuginio perché gli ultimi tre sono i miei favoriti nel senso che li vedo proprio attivi ma belli tostini perché voglio farvi capire il mio pensiero diciamo così non solo mio ma la differenza che c'è tra l'analizzare qualche cosa magari anche lungamente cosa che succede quando uno si fa un percorso di autoosservazione da solo con un'altra persona in gruppo si ritorna tante e tante volte sulle stesse cose ma allo scopo di comprendere la radice di quello che è successo nei fatti esterni e soprattutto nel fatto interno quindi non è un rimuginio è un comprendere sempre meglio quello che è scattato dentro di noi in quella circostanza con quelle persone nella relazione con gli altri partendo sempre da me è un'analisi un'analisi critica si potrebbe dire è una riflessione che anche se ritorna sempre sugli stessi punti per molte volte perché bisogna anche un pochino dipanarla bisogna ritornarci bisogna ripulirla bisogna rivederla la situazione a volte per molte per molto tempo per molte volte ma non ha il sapore del rimuginio che ritorna sempre nello stesso punto e sempre con la stessa ansia con la stessa angoscia anzi bisogna imparare a fidarsi di noi e cioè quando abbiamo imparato a riconoscere il rimuginio se ogni tanto ci ritorna il rimuginio e nonostante la nostra capacità critica di aiutarci di staccarci ritorna vuol dire che ci deve essere qualcosa di importante di inconscio che ancora dobbiamo andare a vedere allora è bene andarci fare proprio un tuffo ancora più nel profondo magari trovare qualcuno che ci dà una mano in questo ma non andare in automatico in questo rimuginio perché è vero ecco quando uno mi dice io sono un tipo mentale io capisco che è il rimuginio i tipi mentali non sono mai mentali non usano mai la creatività del pensiero la riflessione no usano questo macinino per andare ancora ancora una rottura di una relazione ma come mai ma io che ho fatto avrei potuto fare avrei detto una discussione familiare quando rimane la rabbia perché porta molto all'angoscia e alla disperazione il rimuginio alla depressione è una delle cause maggiori di depressione però alimenta anche l'ansia la rabbia perché una piccola cosa accaduta in un momento diventa l'unica cosa che abita nella mia mente a questo serve il rimuginio non è bello no? un'esperienza imbarazzante ma chi non l'ha fatto un'esperienza imbarazzante abbiamo sbagliato abbiamo detto una cosa terribile mi sono venute in mente ma non le voglio dire un sacco di cose che sono successe anche a me a tutti abbiamo detto una cosa terribile abbiamo sbagliato c'è stato un lapsus oddio il mio incoccio che mi vuol dire va bene ammazzatemi subito però perché se no capito cioè tanto se no continua questo rimuginio terribile come se io diventassi solo quello ma non c'è solo il rimuginio c'è anche la ruminazione che mi piace sta parola perché proprio sembra di vedere l'animale che rumina no? che rumina la ruminazione è un'altra cosa simile il rimuginio e il ruminazione sono praticamente guardare al passato in una maniera che non ci fa staccare l'attenzione e ci fa ridire mille volte le cose che non ci sono andate bene o che non ci sono piaciute di noi o degli altri e l'altra invece è la stessa cosa però proiettata nel futuro cioè dire che questa cosa assomiglia un po' al pensiero catastrofico ma il catastrofico almeno è ora e vedo la catastrofe qui potrebbe questo qua è proprio un'angoscia proiettata nel futuro cioè quello che mi è successo nel passato non solo mi sta ancora accadendo ma sicuramente accadrà anche nel futuro questa è l'ansia la radice dell'ansia più grande che c'è l'ansia che non è mai non so per esempio quell'attivazione che come ho detto prima per gli atleti per esempio l'eustress cioè il fatto di essere attivati pronti è una cosa buona così anche una parte della nostra vita può essere un'altra immaginare una cosa che è difficile e che ci fa stare un pochino svegli un esame un colloquio quindi non ce lo dimentichiamo perché ci fa stare un po' preoccupati ma quella preoccupazione non è invadente ci tiene svegli ci fa stare sul pezzo quella parte lì funziona non funziona quando invece siamo proprio come l'asino che tira la carretta ma che non ce la fa più e non ha neanche mangiato per l'ansia di dover arrivare quindi queste sono cose importantissime l'ultimo simpatico ospite della nostra mente che è un pochino diciamo è un pochino conseguente è una certa fissità mentale le persone quando sono troppo abitate da queste trappole quindi ci rimangono veramente dentro troppo a lungo hanno una mente che non è più tanto plastica un po' sclerotizzata si dice è una mente che rimane veramente fissa e allora si resta bloccati in un'idea in una visione di se stessi degli altri senza guardare più il contesto questo ci fa perdere meno tempo perché diciamo quello è fatto così quello è fatto cos'ha quest'altro io sono fatto così però ci dà una visione che è del tutto parziale noi siamo assolutamente dei fenomeni in cambiamento e in evoluzione e gli altri lo stesso allora anche se per esempio possiamo avere una fissità mentale anche positiva abbiamo l'idea che quell'amico o quel partner quella persona è sempre così è una persona sempre corretta che studia sempre in modo appropriato le situazioni e quindi questa è una cosa monolitica non c'è niente che ci fa cambiare idea nemmeno di fronte alla evidente invece defaianza di questa persona come se questa persona non si potesse mai permettere di uscire da quella carreggiata sta facendo di nuovo il paraotti perché è così oppure ad esempio capita spesso nel lavoro persone magari che hanno una certa esperienza e quindi anche una certa età e hanno fatto un lavoro in un certo modo io lo vedo anche collaborando con alcune aziende lo vedo uno dei problemi più grandi sono i team oggi con persone di diversa età perché le persone che sono più anziane e che hanno avuto per tutta la vita un certo modo di lavorare non si schiodano hanno sempre fatto ma no io io ho sempre fatto si fa così diventa un si fa così ed è una cosa per esempio vi racconto questa cosa uno dei temi nelle aziende in questo momento è il generation mix cioè l'unione di queste diverse generazioni ma non solo nelle aziende ma per tutto e cosa succede che non si parlano le persone e non si vogliono capire soprattutto però io do sempre dico che chi ha più saggezza la utilizzi no ma non è così ad esempio una cosa che è rimasta molto nell'area nelle aziende soprattutto in quelle grandi è che anni 80 anni 90 chi più sta al lavoro più è fedele in qualche modo dall'azienda e più è lavoratore no è un lavoratore più forte più apprezzato no perché si lavora così si lavora un giovane è capace di dirti che tu lavori fino a questa ora perché sei lento quello che tu fai in tante ore io lo posso raggiungere è vero o non è vero vediamolo oppure se tu stai a lavorare più di una certa quantità di ore sei un loser non vai bene vai male perché invece è da apprezzare chi fa un buon lavoro in un tempo giusto ristretto questo perché la fissità mentale ci porta anche a non apprezzare dei cambiamenti che potrebbero essere migliori per tutti per esempio l'utilizzo di un modo diverso di lavorare e anche quindi la possibilità di avere un vantaggio da parte dei giovani anche di apprezzare di più la reale maggiore esperienza no? perché cavolo potrebbe esserci un punto d'accordo fantastico eppure c'è questa probabilità di non essere di non comprendersi quindi queste sono trappole del pensiero vi tornano queste trappole ve le siete ecco sono trappole del pensiero ma non sono il pensiero in realtà sono frutto di esperienze emotive e l'emozione ci mette lo zampino e cosa fa l'emozione acchiappa l'energia mentale e la porta verso di sé questo lo fa anche in modo positivo quando siamo innamorati di qualcosa di qualcuno è talmente tanta l'energia l'entusiasmo l'energia emotiva che il pensiero non riesce a liberarsi rimane aggrappato lì e va bene in quel caso non ci fa male in genere però ha lo stesso meccanismo se noi lo vediamo invece diciamo così un po' al negativo quindi in quei casi non siamo liberi siamo degli schiavi non stiamo veramente usando il pensiero ci sono io mi sono annotata anche delle vie d'uscita va bene che ve le annuncio un pochino nel corso faremo un po' di pratica però certamente vi farei entrare in molte trappole se dicessi che in quattro incontri allora li sgominiamo tutti questo questo no però possiamo metterci un pochino l'accento quindi vi racconto un po' quali possono essere le posture interne che ci possono veramente aiutare a dare alle nostre emozioni ai desideri a tutte queste motivazioni che sono anche non coscienti uno spazio diverso rispetto a quello della mente cioè liberiamola questa nostra mente diamogli un pochino da fare per esempio quando io vedo le persone che fanno il sudoku dico si riposa un po' la mente perché fa il suo lavoro è chiaro che quando uno è fissato se ha il centesimo sudoku che ha fatto ha un problema però è come dire ci sono degli spazi a volte che hanno proprio prendono il posto di un relax fisico perché spesso noi non siamo stanchi fisicamente ma siamo stanchi mentalmente o emotivamente è raro oggigiorno con i mestieri che facciamo che siamo stanchi fisicamente dovremmo aver fatto una corsa vendemmiato fatto palestra ma parecchio quando invece sono stanco in genere perché è stanco con la mente o emotivamente ma questo non c'entra faremo un'altra conferenza su questo allora per esempio ci sono mi sono insegnata una pratica che è quella di scrivere tenere un diario raccontare di sé a se stessi che sono delle pratiche che vanno molto bene per esempio quando siamo preda del pensiero catastrofico cioè immaginiamo il peggio in ogni situazione allora qui tenere proprio un diario dei pensieri catastrofici questo vuol dire che ce ne rendiamo conto quindi abbiamo messo un alert oddio vediamo un po' quando mi sento e qui le emozioni ci possono essere utili mi sento un po' giù mi sento arrabbiato mi sento triste mica ci avrò un pensiero catastrofico vado a vedere le emozioni servono solo a questo se non rimuginiamo ci servono proprio come campanelli d'allarme poi basta lasciamo andare quando l'emozione ci ha detto quello che dobbiamo fare lo potremmo fare tenere un diario quindi dei pensieri catastrofici e vedere quindi registrare quali sono i pensieri negativi che li hanno che li hanno attivati e poi anche analizzare la probabilità che questo pensiero veramente si realizzi che in genere sono veramente bassissime e però se noi ci fissiamo ci portano veramente degli aspetti depressivi la stessa tecnica quella di tenere un diario è molto utile per esempio anche quando abbiamo la tendenza alla generalizzazione eccessiva cioè quando traiamo delle conclusioni generali basate su un evento singolo quindi tenere un diario su questi ma come mai ho questa tendenza no? quali sono gli eventi che io tendo a generalizzare? magari sono tutti dello stesso tipo magari sono di tipi diversi la ricerca scientifica anche psicologica ci aiuta a capire che noi impariamo per esempio c'è un concetto che si chiama l'apprendimento di impotenza cioè noi impariamo da noi stessi impariamo a essere impotenti di fronte alle situazioni questa cosa va male andranno male tutti e noi impariamo beviamo proprio da una fonte interna dell'autostima che si abbassa sempre di più allora dobbiamo proprio imparare no? a tirarci un po' su oppure un altro diario importante è quello della gratitudine chi ha la tendenza quando abbiamo la tendenza a fare questo filtraggio mentale e quindi ci concentriamo solo sugli aspetti negativi di una situazione ignorando quelli positivi proviamo ad allargare la mente e a dare nel nostro piccolo gli altri non lo devono neanche sapere delle pennellate di bene a noi stessi provando gratitudine per qualcosa la gratitudine è come una vitamina che noi prendiamo e certo se la esprimiamo anche la persona a cui esprimiamo la gratitudine si sentirà bene si sentirà ma non importa quasi importa quello che produce a noi è un pensiero positivo e reale perché una cosa che fa male per esempio sono i pensieri positivi e reali cioè tipo a me andrà tutto bene su forza su forza sono veramente ganza oh yeah questi sono i pensieri positivi all'americana che non servono a granché ma se invece uno dice sono grato perché c'è il sole stamattina e a me piace guardare questo prato con le margherite prima che qualcuno non le vado a tagliare in realtà bene oppure sono grato alla mia amica che mi ha telefonato ieri avevo bisogno di sentire di avere un saluto oppure ecco piccole cose che riguardano la gratitudine altre tecniche sono proprio quelle di portare l'attenzione sul movimento che facciamo quando noi etichettiamo qualcuno quello è simpatico quello è antipatico perché ce lo dobbiamo chiedere proviamo a darci il tempo di analizzare quindi utilizzare la nostra mente per vedere chi in genere chi ci ricorda ci sono sempre delle proiezioni che noi facciamo con le altre persone un'altra cosa ecco la lettura del pensiero ve ne dico soltanto un altro paio poi chiudiamo la lettura del pensiero allora c'è una tecnica molto interessante in psicologia è molto facile da fare si chiama ascolto attivo significa ascoltare la persona che parla non solo senza interromperla ma senza pensare a quello che dobbiamo dire dopo quando le persone ci parlano in genere noi pensiamo che cosa gli devo dire ora come posso far capire che mi piace quello che dice oppure che cosa posso fare per aiutarla si aspetterà da me che gli dico qualcosa oppure allora ora che finisce di parlare dopo io gli devo chiedere allora qualche cosa questo è un lavorio nella nostra mente che ci impedisce di entrare in contatto con l'altro e quindi etichettiamo leggiamo il pensiero facciamo mille cose la consapevolezza la consapevolezza che è da sfruttare è proprio quella di rimanere in ascolto abbassando il volume dei nostri pensieri dentro e poi fare delle domande ah ma volevi dire questo ah e quest'altra cosa me la puoi spiegare meglio mi intendi dire che cioè fare veramente un atto di come si può dire di consapevolezza di fronte alle persone adesso io vi dico soltanto l'ultima cosa che riguarda la consapevolezza di sé e la psicosintesi la psicosintesi io mi piace molto lavorare in questi ultimi anni anche con la mindfulness no questa consapevolezza di sé del proprio stato d'animo interiore del proprio corpo del proprio respiro ma quello che è interessante e che non sempre passa attraverso queste discipline diciamo così che sono invece con una bella base anche di pratica scientifica è che quello che conta non è rilassarsi la mindfulness ma anche la pratica della psicosintese esempio quando andiamo a vedere quante parti di noi sono in conflitto dentro di noi non ci serve a rilassarsi dicevo mi sono messa lì ho fatto una meditazione una visualizzazione per capire meglio i miei conflitti interni oppure ho fatto un'esperienza di concentrazione per capire quali sono i miei pensieri ricorrenti le trappole di prima o le mie emozioni e sto peggio di prima non sto peggio di prima sono più consapevole quindi ascoltare noi stessi e gli altri anche quando ci porta a galla degli aspetti che magari non sono piacevoli ci fanno stare un po' più in tensione è una pratica di consapevolezza di gran lunga migliore di questo chiacchiericcio continuo nella nostra mente in cui noi siamo finiti a fine giornata e in genere di pessimo umore quindi tutte quelle pratiche della psicosintesi che sono le esplorazioni delle nostre subpersonalità l'identificazione vi ricordate all'inizio avevo detto una cosa particolare della psicosintesi è quella di mettere anche in campo questa possibilità e anche questo bisogno che ha l'uomo l'essere umano di avere anche un respiro spirituale dentro di sé quindi di vedere le cose anche in una prospettiva del significato un po' più ampia che in genere si accompagna anche a un'idea di bellezza a un'idea di interconnessione se noi ci abituiamo anche a lavorare attraverso l'immaginazione creativa attraverso l'analisi di noi attraverso l'elevazione della nostra coscienza a toccare questi punti un po' sopra allora noi avremo in mano le chiavi per avere un allargamento della nostra mente vedremo noi stessi come esseri belli più significativi con le nostre difettualità vedremo gli altri come esseri belli significativi con le loro difettualità in una maniera molto più semplice saremo meno impauriti di noi stessi e degli altri e anche queste trappole mentali anche se non l'abbiamo ancora del tutto risolte ci potranno sembrare in un piano un po' inferiore e potranno vedere anche gli altri riconoscere gli altri in India c'è un saluto che è namaste che significa saluto la divinità che è in te che non è né più né meno bello del nostro addio che addio adesso è addio cioè ciao per sempre ma un tempo era addio era come arrivederci cioè ti lascio addio e namaste è vedo il divino che è in te certamente sotto un po' di straccetti che ogni tanto abbiamo lo sappiamo però questo secondo me è una parte di pratica della psicosintesi oltre a quella della consapevolezza che ci può veramente aiutare ecco quindi appelliamoci diciamo così a questa visione più ampia e naturalmente un'altra tecnica importantissima che viene non tanto dalla psicosintesi ma che secondo me avrebbe reso contentissimo anche Roberto Assagioli è una pratica che in psicologia va sempre più per la maggiore che è quella della amicizia di se stessi che l'ha chiamato compassion dire compassione è un po' brutto in italiano cioè compassione viene subito in mente parino no? non è quello è questa compassion essere amici di se stessi e degli altri ma se non riusciamo a essere amici di noi stessi di vincolarci un po' da queste trappole saremo veramente sempre con questa tagliola che ci tiene fermi e infliggeremo taglioli anche agli altri quindi per un mondo migliore salutiamoci così con una visione che possa aumentare il benessere reciproco e con questo termino la conferenza grazie a tutti